Ciao Jasper Forse non ti stai impegnando abbastanza a cercare No, 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 mi sto impegnando tanto a trovarti e che sei bravo a nasconderti Ma ormai sono nascosto qui da più di quattro ore Perché non riesci a trovarmi? Ok, dammi un altro inizio Sono nel tuo giardino In un cespuglio sotto la finestra della tua cucina Ok, farò del mio meglio per trovarti Del tuo meglio? Ti ho detto esattamente dove sono?